Ma so che uno di questi due è disegnato Avete capito bene? Una di questi due è disegnata E io sono Renzi Neanche la mia intro so fare, capite? E io sono Renzi e sono bentorni in questo nuovo video E ragazzi e oggi siamo qua Per un nuovissimo video Ma dai, pensavo che fossero qua per una nuova foto su YouTube Grazie a tutti i nuovi iscritti che sono venuti Dal video di Follettina Creation a quanto vale Te l'avevo detto che Follettina portava visual In questo momento siamo a 400 iscritti Vi ringrazio di cuore Non faccio le speciali perché non c'ho voglia di fare Le speciali ogni 100 ma ai 500 Probabilmente ci sarà uno speciale Se vi tutto il tempo che volete Condividete il video se vi piace davvero il mio canale Cosa che hanno fatto Diversi youtuber Ma questi youtuber non hanno fatto un'altra Parte di queste cose Ossia Mettimi a fuo grazie Ossia indovina Qual è il vero e qual è il falso Cosa che assolutamente non so fare Ma che proveremo a fare Ditemi nei commenti alla fine voi quante Ne avreste azzeccate E andiamo subito al video Ok ragazzi iniziamo da queste Ciambelle E io non lo so quale sia vero falsa Non ho visto questi video Quindi non so assolutamente Quale sia il vero e quale sia il falso Ma so che uno di questi due È disegnato Avete capito bene? Una di queste due è disegnata Quindi io c'ho un monitor che è equivalente A una tv della cucina Una tv piccola E io guardando Proprio così Avrei bisogno di una dente di ingrandimento Però non ce l'ho Sarebbe stato abbastanza figo Io ad occhio Direi che Una è più dettagliata dell'altra Innanzitutto La più dettagliata Solitamente È quella che si mangia No Non lo so proprio Perché il disegno Questa qua Dico che la parte sinistra è un disegno Grazie ho messo muto Andiamo a vedere Olè Signori Quello lì a quanto pare Mangiatela tutto Ah no Non era un disegno Era semplicemente un cartoncino Va bene Sì alla prossima Qua ragazzi andiamo davvero male 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 Perché non le so Ok Non le so Ma Partiamo dal fatto che Non partiamo dal fatto che niente Qua è solo una botta di culo Perché qua Io non vedo differenze Non vedo nessuna differenza Sono fatte troppo bene Vediamo tipo nel taglio Se sono stati imprecisi a tagliare Non lo so Si vede anche sotto Quindi magari quello che disegna Non pensa al sotto Quindi io dico che il disegno è quello di destro No E non era neanche un cartoncino Era un disegno Come Cristo fai a farlo Va bene Stai vincendo Va bene Andiamo Vediamo così Questo secondo me Venendolo proprio Così Direi che quello di destra È falso Perché è più splendente È più Sì Signore Quello di destra Era quello Falso Andiamo al prossimo Ci sta Eh vabbè Ma allora mi chiedi troppo Che palle Pare che mi sta Facendo vedere solo cibo E mi sta venendo fame Oltre a quello Qui Io Non vedo differenze È più preciso al sinistro Anche come è scritto Quindi dico Beh al sinistro È Oddio No ok No Tu mi stai dicendo Che una di queste patatine È falsa Tu Stai Scherzando Io come Minchia faccio A capire Quale di queste patatine È falsa Che saranno tutte Uguali Secondo me È questa Qua Perché È Più chiara Delle altre Vai Vediamo raga È il momento Della Verità Meraviglia È stata distrutta Per prima La mia Quella di un disegno Anche qua Penso C'è la barretta E non La scatola Perché Sarebbe una presa Per il culo Secondo me Quello di Dato che lì L'ha strappato In qualche modo Probabilmente Facendo il disegno Mettendolo Io dico che Quello sopra È quello Falso Ok Quello sopra È quello falso Dove Mi Vado a basare In cose Che non c'entrano Assolutamente Una minchia E le sbaglio un'ora in avanti sarò più io tipo qua io la vedo così io direi che quella di destra è vera perché non ha quelle luci sul sul ramo ma quella di sinistra è falsa infatti quella di sinistra è falsa grazie Gesù unicorni ciao unicorni allora vediamo questi unicorni sono bellissimi vabbè si sa io direi che quello di sinistra guardate la cosa di quella di destra è più strana di quella di sinistra è anche più reale secondo me quella di sinistra potrebbe essere l'ho proprio azzeccata direi questa è per ingiustizia ragazzi ditelo che è ingiustizia quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi lascerò il link in descrizione di questo video e magari di altri video simili a questo perché questo ho fatto tipo 10 parti di questo vero contro falso se lo volete andare a vedere vi lascio mi raccomando il link in descrizione se siete nuovi iscrivetevi al canale mi raccomando attivate la campanile per non perdere nessun mio video noi ci vediamo dopo domani con un mio prossimo video ciao se sei arrivato a questo punto del video commenta banane e basta